Buon pomeriggio, ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo. Una giornata interessante con galoppo di qualità. Infatti è proprio il memorial riservato al barone Gaetano Franci Canava, proprietario del terreno sulla quale poi è sorta la struttura dell'ippodromo del Mediterraneo e verrà ricordato proprio con un memorial, un handicap principale che impegna soggetti di tre anni ed oltre sui selettivi 2.300 metri della pista piccola. Interessantissime prove di contorno. Andiamo a presentare subito la prova di apertura, il premio Fierissima, un handicap discendente. Si va sulla velocità, sui 1.200 metri della pista piccola, al confronto soggetti di due anni. La prima del convegno. Partiti. Chesuri e Zagara d'Arancio subito in avanti, a ridosso Lolita Rock, poi due di scuderia, Romanian Boy e Capitan Dream a seguire. Un po' di lunghezze per la dell'Etna. In vantaggio si porta Chesuri perde le staffe, nel frattempo Fusco, il laffantino di Lolita Rock, per linee esterne avanza Romanian Boy che risale in seconda posizione, terzo il compagno di scuderia Capitan Dream, poi per la dell'Etna, ancora Zagara d'Arancio. Quindi Lolita Rock, la retta d'arrivo con Chesuri impegnato all'esterno da Romanian Boy che tende a passare, completa il sorpasso ai 200 finali. Romanian Boy ora scende lungo la corda, a largo Perla dell'Etna, quindi rimane in quota Chesuri. Perline ancora esterne, Zagara d'Arancio. Siamo ai 100 finali con Romanian Boy, ora roccato lungo la corda, è un buon vantaggio. Romanian Boy mantiene la meglio e vince nei confronti di Zagara d'Arancio, che emerge per il secondo posto, terzo è Perla dell'Etna. Successo quindi per il favorito Romanian Boy, numero uno dello schieramento, nei confronti di Zagara d'Arancio, numero quattro, poi al terzo conclude Perla dell'Etna, numero tre. Successo per il portacolore di Mark Cuschieri, training di Stefano Postiglione, in sella Antonio Cannella, secondo Zagara d'Arancio, numero quattro dello schieramento, terzo è il numero tre Perla dell'Etna, poi Chesuri. Attendiamo l'ordine ufficiale, linea regia. Bene, complimenti, iniziamo bene a Marcus Cschieri, Romanian Boy, dopo l'ultimo successo in sabbia, dimostra di essere in grande forma, vince davvero facile. Sì, ho detto un'altra volta, avevo dubbi sull'erba, ma visto che è andato anche bene sull'erba. Il premio Asuf, invece, scena per la seconda del pomeriggio, ancora un handicap discendente. Questa volta sono millequattrocento i metri della pista piccola da affrontare e in campo scendono i soggetti di tre anni ed oltre. Rimangono in otto, dopo il forfè del numero sette dello schieramento, Supercoach. Non corre Supercoach, otto al via in questo handicap sui millequattrocento metri, ci siamo. Partiti. Red Joe tende ad assumere l'iniziativa operazione riuscita dopo i primi cento metri di gara, quindi Red Joe si stalla al comando nei confronti di Fisi George e Gretzligo, quindi Greybet, Monister a seguire, Alkerina, St. George Cross e Leo Salsim. Queste le posizioni dopo i primi 250 metri, con in vantaggio Red Joe quando si va ad affrontare la piegata, in seconda posizione Gretzligo, quindi Fisi George, poi Greybet, la grigia con i fianchi St. George Cross, il top weight, quinto in corda, sesto in corda, scusate, Monister, con i fianchi la giubba fucsia di Leo Salsim, chiude il gruppo Alkerina, si entra in dirittura, non cambiano le posizioni, con Red Joe sempre in vantaggio, al suo esterno Gretzligo, poi a largo prova ad avanzare St. George Cross, in anticipo su Greybet, quindi Fisi George, siamo ai 200 finali con Red Joe in corda, a largo St. George Cross, 3-2, Greybet, Greybet piazza l'attacco a Red Joe, Greybet nel finale di forza, Greybet passa e vince, Greybet, quindi Red Joe e St. George Cross vicini per la miglior piazza, quarto è Gretzligo, Greybet, Sebastiano Guerrieri, viaggia coperto fino ai 200 finali e poi progredisce, all'esterno di Red Joe, eccola in evidenza Greybet, numero 2 dello schieramento, colori della signora Topazio Guerrieri, il training del signor De Luca, 3,70 la quota di Sebastiano Guerrieri, Greybet, numero 2 dello schieramento, poi Red Joe e St. George Cross, all'interno numero 3, Red Joe allargò St. George Cross, numero 1, i due finiscono veramente in linea sul traguardo, poi via via gli altri. Attendiamo quindi l'ordine d'arrivo ufficiale, linea da regia. La grigia torna a colpire anche insomma bene. Sì, finalmente, perché da quando c'è tutta questa pioggia, lei col pesante non è che si adatta tanto bene, però è sceso un po' di categoria e ce l'ha fatto ugualmente. Complimenti. Grazie. 11.000 euro la dotazione del premio Samedi Suar, condizionata che impegna i tre anni ed oltre sulla breve distanza dei 1.100 metri della pista piccola. E' tutto pronto? Partiti! Comet Gray è il più veloce, tende ad assumere subito l'iniziativa nei confronti di Mara Hill, quindi in seconda posizione per linee esterne Andreino. L'andatura è sostenuta quando si va ad affrontare la piegata con Comet Gray che guadagna due di margine in questo parziale. ad Andreino, quindi in seconda posizione Mara Hill, terzo Andreino, poi a seguire Dutch Breeze in quinta posizione Traditional Chic, poi Peppe Island. Cavalli che entrano in addirittura di arrivo con Comet Gray in vantaggio al suo inseguimento, si mantiene Mara Hill, quindi Dutch Breeze che ora sposta all'esterno, quindi allargo Andreino per linee interne Traditional Chic. Siamo ai 200 finali con Comet Gray in vantaggio, ci prova Dutch Breeze, lungo la corda si impegna anche Traditional Chic, Comet Gray, Traditional Chic, quindi Dutch Breeze, Comet Gray, all'esterno Traditional Chic che piomba sul grigio, Comet Gray, Traditional, in linea sul palo, poi Dutch Breeze. Puoi seguire Dutch Breeze. e quindi Comet Gray lungo la corda al suo esterno si propone Traditional Chic, con ancora largo Dutch Breeze, Comet Gray, il grigio, attaccato a fondo da Traditional Chic, i due finiscono proprio in linea sul traguardo, i due finiscono in linea sul traguardo, Traditional Chic copre del tutto, copre del tutto Comet Gray. Bene, andiamo subito a sentire il parere, aspettando naturalmente l'ordine ufficiale di questa bella performance di Traditional Chic. Non capisco la quota così alta, 10 di fronte al campo partenti, ci credevate anche voi così poco? L'ultima, un handicap, se non sbaglio, a 1.400 sul terreno all'8 dicembre, che era proibitivo per lui, non ha fatto un'ottima performance, perciò sicuramente la quota deriva da quello, un cavallo che col terreno come oggi sa dire il suo, l'ha dimostrato, sperando di aver preso la miglior piazza. Poi peraltro combatte con una Comet Gray, bellissima da vedere peraltro il tondino, ottima la forma, bellissima la volata, l'andatura sostenuta, era un tipo di corsa che comunque avrebbe gradito Tradicional? Sicuramente una corsa avvenuta per lui, non pensavo sinceramente di poter arrivare sino a andare a prendere Comet Gray, perché è un cavallo che sulla distanza in questo tipo di corsa rende, però insomma ci siamo andati. La monta, la monta di pinna? La monta di pinna, una monta ottima, un fantino ottimo, quando vogliono montare sono grandi fantini. Grazie, grazie, in bocca al lupo. E adesso procediamo con l'altra condizionata, quella che impegna invece giovanissimi i soggetti di due anni, il premio ebleo da affrontare il 1700 metri della pista grande sono in sei al via. I sei concorrenti sono in partenza. Partiti. Gray Dancing per un attimo in vantaggio al suo interno Capitan Glue, quindi Fire with Fire. Gray Dancing si mantiene quindi in vantaggio dopo i primi 100 metri nei confronti di Fire with Fire, che ora avanza lungo la corda al suo esterno Capitan Glue, poi in quarta posizione King of Malta, quindi Time to Live all'estrema attesa Mr. Anthony. Si completano i primi 250 di gara con Fire with Fire impegnato all'esterno da Capitan Glue, ancora a largo il grigio Gray Dancing, quarto a ridosso dei primi è King of Malta, poi Time to Live, quindi Mr. Anthony. Si va ad affrontare la piegata con Capitan Glue, che rompe gli indugi, guadagna la lunghezza e mezza a Gray Dancing, quindi in terza posizione si mantiene King of Malta quando i cavalli sono a tre quarti della piegata di fondo, quarto è Time to Live, poi Fire with Fire, Mr. Anthony. Si completa la piegata, si entra in retta con Capitan Glue in vantaggio al suo esterno Gray Dancing, poi ancora a largo Time to Live per Varchi, King of Malta, quindi all'esterno di tutti Mr. Anthony. Cavalli ai 350 finali con Capitan Glue attaccato da Time to Live, quindi Gray Dancing, King of Malta, a largo Mr. Anthony. Siamo ai 200 finali con Capitan Glue che prova a reagire all'attacco di Time to Live, quindi King of Malta. Siamo ai 100 metri finali con Capitan Glue arroccato lungo la corda al suo esterno Time to Live, lotta serratissima 3-2 con Time to Live a largo, Time to Live e Capitan Glue, Time to Live a fin di palo, Capitan Glue, poi a seguire King of Malta. Time to Live, probabilmente di misura, ma andiamo a rivedere le battute finali. Time to Live con Capitan Glue, si staccano in lotta. Time to Live, Gabriele Cannarella, a largo all'interno Capitan Glue, Sebastiano Guerrieri. I due finiscono vicinissimi sul traguardo. Quindi Time to Live, Capitan Glue, poi a seguire. Avevamo detto l'unica femminuccia presentata peraltro molto bene al Tondino, bella la condizione, veniva da una penultima corsa con Vittoria, ci stava tutto. Sì, noi l'abbiamo data partente, potevamo aspettare il Gran Premio Sicilia, ma l'abbiamo data partente perché la cavalla scoppiava di salute. Volevamo subito, volevamo subito riscattare il quinto posto con tanto rammarico della list, e oggi ci siamo riusciti al meglio. Io voglio ringraziare tantissimo Strato qui a fianco a noi che mi sta imparando tantissimo, mi dà una grande mano tutti i giorni e poi mio padre che mi compra questi cavalli e mi fa felice ogni giorno. Bene, una grande passione quella che esprimete, lo si vede dall'entusiasmo con cui poi si accompagnano le vittorie e non solo, visto i sacrifici fatti giornalmente, anche la monta magistrale di Gabriele Canarella che sta venendo avanti e adesso fa vedere buoni risultati oltre che il cavallo naturalmente. Sì, in verità l'altra volta quando gli ho dato gli ordini per la list ed è sceso e si è arrabbiato. Mi ha detto mi ha fatto buttare la list e oggi è un attondino e gli ho detto non ti dico niente, fai tu. E ha avuto ragione. Bene, merito allora al Fantino, Time to Live venuta avanti non gradiva forse l'ultimo tracciato. No, lei è una cavalla che predirigi i terreni morbidi, poi è una cavalla che ha maturato tanto, vuole molta distanza, una cavalla che sicuramente quando incominceranno le due curve e lei migliorerà ancora di più. La cavalla è avuta molto avanti. Noi ci siamo, ci abbiamo sempre chieduti sin dal debutto. Poi sai, siamo stati a Napoli, la cavalla ha avuto un piccolo problemino, l'abbiamo rimesso a posto e ora la cavalla ha ridurato la forma. Allora, si ci prospetta per giorno 6, si ci prepara per il premio Sicilia? Intanto riposa perché l'ha meritato, poi ci vedrà. Ippica Nazionale è abbinato al premio Super Bobbina, un handicap discendente dove sui 1900 metri della pista sabbia si confronteranno 11, anzi 10, scusate, soggetti di 3 anni ed oltre dopo la non partenza del numero 1 Cute Lady e il ritiro del numero 12 Dark Dream. Per questo handicap sui 1900 metri partiti. Timbrali, Lapreneide, Bridge Poseidon, questi a fare partenza, poi all'esterno Lovely Heart, quindi Black Future, Grey Caviar, ancora Lovely Heart, Bridge Poseidon, quindi nei primi i primi 200 metri, ora dall'esterno è Black Future che assume l'iniziativa nei confronti di Lovely Heart, quindi Lapreneide, Bridge Poseidon, l'andatura è buona per la categoria Quinto e Vietri, il sesto è Grey Caviar, numero 4 dello schieramento, a seguire poi Timbrali che scivola in settima posizione, ancora Pleasant Rock, quindi Virus Attack, e Crazy Knight, cavalli che affrontano l'addirittura opposta con Black Future e leggero vantaggio nei confronti della Prineide, poi a contatto si mantiene Vietri, quindi Bridge Poseidon, poi Lovely Heart, si va ad affrontare la piegata con Black Future impegnata all'esterno da Bridge Poseidon, quindi Grey Caviar che risale in terza posizione a largo in quarta corsia Timbrali, quindi Lapreneide, cavalli che vanno a completare la piegata, si entra in retta di arrivo, cavalli che si aprono a ventaglio con a largo di tutti Timbrali, a centro pista Grey Caviar e Black Future, quindi Bridge Poseidon, ancora Pleasant Rock e Crazy Knight, siamo ai 200 metri finali con Timbrali attaccato da Pleasant Rock, a largo Crazy Knight, quindi Grey Caviar all'interno è passato Pleasant Rock, quindi Crazy Knight, ancora Timbrali, Pleasant Rock, Pleasant Rock mantiene la meglio e vince su Crazy Knight, Grey Caviar e poi Timbrali. Pleasant Rock, Federico Bossa, numero 8 dello schieramento, riesce a vincere questo Envy Cup abbinato all'Ipica Nazionale sui 1900 metri, Pleasant Rock, Federico Bossa, 5,28 la quota, poi Crazy Knight, numero 9, questa è la mia impressione, stiamo rivedendo proprio lo slow motion degli ultimi metri, con Pleasant Rock, pericolore del signore Pietro Di Pietro, del tenere di Stefano Postiglione, a segno nei confronti di Crazy Knight. Bene, siamo qui al tondino con Federico Bossa, che accorcia le distanze, perché non so se lo sai, ma qui a Siracusa sei in quinta posizione, a livello nazionale sei nono in classifica Fantini, quindi ti facciamo naturalmente i nostri migliori auguri per concludere questo anno, e intanto arriva questa vittoria, è in una categoria insomma, a quanto complesso, una corsa che era aperta. Sì, sì, una corsa molto aperta. Cavallo l'ultima volta è stata sfortunata e ha perso un ferro, oggi è andato tutto bene, no, più che altro un calo in progresso, sicuramente ha fatto poche corse, ha debutato tardi, un calo molto tardivo, sicuramente sta imparando a correre adesso, ancora non è del tutto inquadrato, però sta venendo avanti col tempo e con le corse, sicuramente ci picchia vicino anche alla prossima, secondo me. Prima di partire eravate addirittura favoriti? Sì, meno male, abbiamo ripagato la fiducia degli scommettitori. Bene, complimenti. Grazie. E quindi premio Miss Gris, una reclamare che impegna soggetti di tre anni ed oltre, 1200 metri della pista sabbia, distanza e tracciato da affrontare. Sta a reclamare sui 1200 metri, partiti. attenzione, è caduto il fantio dal cavallo numero 4, credo, Guerrieri. E quindi torniamo in cronaca, torniamo in cronaca con in vantaggio MySaxiWeek, il favorito. In vantaggio quindi si porta a MySaxiWeek quando i cavalli vanno a completare la piegata nei confronti di Notte e Desideri, quindi Larga Ciarla, cavalli in retta di arrivo con in vantaggio MySaxiWeek al suo esterno Notte e Desideri, quindi Alca Renesme, poi per linee interne Circle, cavalli ai 200 finali con in vantaggio MySaxiWeek, ci prova all'esterno Notte e Desideri, quindi Larga Ciarla, MySaxiWeek e Notte e Desideri, MySaxiWeek Notte e Desideri, passa nel finale su MySaxiWeek e Larga Ciarla, e quindi testa a testa tra Notte e Desideri numero 6 e MySaxiWeek, numero 5 dello schieramento, poi Larga Ciarla al terzo posto, attendiamo quindi il verdetto ufficiale, ecco, stiamo rivedendo le battute finali, con Notte e Desideri che copre del tutto il favorito MySaxiWeek, poi al terzo posto conclude Larga Ciarla, numero 3 dello schieramento, attendiamo l'ordine ufficiale, lì nella regia. Sì, bene, dai, abbiamo festeggiato, facciamo gli auguri a Stefano, abbiamo festeggiato tanto Stefano così, dai. Bene, bene, una corsa ben riuscita e poi c'è anche la tua mano. Sì, è un po' corta per lui, il 1.2, ho cercato di non farmi scappare appunto il favorito e in fondo l'abbiamo castigato. Complimenti. Grazie. Cuschieri, il proprietario già è accanto, è un cavallo che già è ben presentato al tondino, è il numero 5 Zinobar, la targa viene consegnata a Marco Cuschieri che ci lascia anche il pronostico. Zinobar, che cosa fa oggi? Speriamo che vince, no, almeno non vince solo il miglior presentato, speriamo che vince la corsa. E si chiude il pomeriggio al galoppo siracusano con il ricordo del barone Gaetano Franci Canava, un memorial proprio a sigillare questo convegno di oggi di Santo Stefano, un handicap principale che impegna i soggetti di tre anni ed oltre sui 2.100 metri della pista piccola per tirare fuori quella che sarà la Tris Quartè Quintè. 17 al via in questa edizione 2016 del Memoria al Gaetano Franci Canava, sono partiti nel frattempo. Parte in ritardo Locking Jack, assume di slancio iniziativa Zenas al suo interno Gremab, quindi futuro anteriore, ancora Celticus che si porta sotto i primi, Celticus all'esterno di Gremab, quindi Sopran Cosmic, futuro anteriore, quindi Zenas, Donna Aurelio, Wonderide nel cuore del gruppo, ancora The Dreamer, Ottaviana Augusto, poi per linee esterne Zinnobar, si va ad affrontare la piegata di sinistra con Gremab, Gremab da battistrata in avanti, in seconda posizione si mantiene Celticus, terzo e futuro anteriore, quarto Sopran Cosmic, quinto è Zenas, in sesta posizione Shukal, poi Donna Aurelio con all'esterno l'altro grigio, Zinnobar con in scia verdetto finale, queste le prime 10 posizioni quando si va ad attaccare la retta opposta alle tribune con Gremab sempre in avanti a graduare, a una lunghezza e mezza si mantiene Celticus, terzo con la casacca Fuchsia e Bianca, Stelle Bianca e Sopran Cosmic, in terza corsia risale verdetto finale, quindi a seguire per linee esterne Zinnobar, cavalli sul finire della retta opposta con Celticus che passa di forza nei confronti di verdetto finale che insiste al suo esterno Celticus lungo la corda quando si va ad affrontare la piegata finale al suo esterno verdetto finale poi in terza posizione si mantiene in quota Gremab con all'esterno Sopran Cosmic quindi futuro anteriore Shukal per linee interne cavalli che completano la piegata di pista piccola si entra in retta di arrivo con Celticus in corda in vantaggio al suo esterno si mantiene verdetto finale ma a largo vola Shukal Shukal attacca a fondo Celticus quindi Gremab a seguire futuro anteriore quindi Don Aurelio cavalli ai 200 finali con Shukal che è passato Shukal ha preso il tempo a tutti Shukal prova a svincolarsi di Celticus che rimane in quota a largo on the ride futuro anteriore quindi Ottaviano Shukal stravince poi a seguire poi a seguire Celticus Ottaviano Augusto on the ride futuro anteriore via via gli altri stravince Shukal sul terreno buono Shukal numero 7 assegno i colori di Giussi Guida al training di Luciano Vitabile eccolo in evidenza Shukal cambia azione 300 finali e viene a risolvere questo Memorial Gaetano Francicanave edizione 2016 Shukal eccolo in evidenza numero 7 dello schienamento riesce a vincere riesce a vincere quindi Shukal Shukal su Celticus poi Ottaviano Ottaviano rientra on the ride futuro anteriore questa è la mia impressione questa è la mia impressione con Shukal Shukal assegno nei confronti di Celticus numero 3 dello schienamento si chiude la giornata del 26 con il Memorial Gaetano Francicanava Tris Quartec che vede il protagonista in Shukal montato magistralmente da Giuseppe Cannarella vistosamente emozionato insieme così come tutto il team a cui chiediamo subito prima di ogni premiazione qual è stata la sensazione in corsa soprattutto l'attesa visto anche il buon numero di steccato nel gruppone per poi prendere posizione e andare via sgusciare fuori si guarda all'inizio il giorno di partenza il numero di steccato sembrava la cosa più brutta che era venuta invece è stata la nostra fortuna meno male poi in corsa in corsa il cavallo stava benissimo l'altro giorno una prestazione molto falsa per essere vera oggi ha dimostrato quel che vale bene contento anche il proprietario Gioacchino Guida se l'aspettava onestamente dopo i risultati che abbiamo avuto un pochettino no perché comunque Siracusa è una pista o ti adatti o no lui ha le caratteristiche buone lo dimostra a Milano a Varese però oggi a Stracorsa sono stra felice ha trovato bene il suo taccio di ideale il suo terreno ideale sì comunque lui è un cavallo che da 2000 a 2002 e 50 anche a Varese ha vinto la città di Varese un cavallo che ha terreni morbidi non gradisce tanto il pesante e oggi l'ha dimostrato ha tirato fuori la categoria quella che lui ha Vincenzo Schiavone se ti avvicini invece a Voce del Mediterraneo a cronaca di questa corsa che sicuramente è stata particolare sì una corsa Shukal su un terreno del genere ma non aspettavo che potesse fornire una performance a questo livello l'avevamo già annunciato in settimana ha trovato il terreno congeniale il cavallo si è inventato qui sulla pista e ha fornito una performance piuttosto maiuscola cambiando azione a metà retta e allungando in maniera devastante ha corso veramente sopra le righe un complimento a tutto il team tra l'altro è un cavallo di ottimi mezzi che rivedremo credo a metà gennaio nuovamente protagonista bene partiamo partiamo dal coppia andiamo direttamente al fantino del cavallo primo classificato consegna il dottor Fabio Faraci a Giuseppe Cannarella che ha in braccio oltre la felicità della coppia anche la sua amata bimba Maria Clara se non sbaglio Chiara Maria Carla Maria andiamo avanti con la premiazione dell'allenatore va alla coppa Luciano Vitabile ritira Carmelo Bottone per la vittoria di Sugar dalle mani di Vincenzo Schiavone resta il coppone che va dato al proprietario che è pesantissimo nelle mani del dottor Concetto Mazzarella ritira Gioacchino Guida per i colori di Sugar rappresentante di Giusy Guida eccola qui foto di rito per quanto riguarda soprattutto la stampa noi vi ricordiamo l'appuntamento del 31 di dicembre all'ippodromo del Mediterraneo per poi aprire il 6 con il premio Sicilia e naturalmente anche l'evento collaterale legato all'arrivo della Befana e il 15 il galà internazionale del galoppo arrivederci